Paolo, successo importante, ci avviciniamo alle feste natalizie, partiamo subito col dire cosa ci sarà il 16 dicembre. Il 16 dicembre è il convivio annuale importante per l'aguri natalizi qui alla Casa del Popolo a Bagno di Gavorrano dove insieme alla proprietà c'è la prima squadra, l'ignorza, la scuola calcio, quindi è un modo per farsi l'aguri e condividere insieme questo Gavorrano che penso stia dando delle bellissime soddisfazioni. Per quello che riguarda la partita, una battuta veloce, Gavorrano come ho detto a Vidaliano, diverso dal solito, meno bello nel primo tempo e invece ottimo nella ripresa. Sì, Brega e Lombardi sono dei giatori importanti che hanno fatto la differenza, la nostra è una bellissima squadra che a volte è un momento di fioltà, però siamo riusciti a imporsi e penso il risultato sia giusto e quindi un complimenti a tutti i ragazzi, allo staff tecnico perché Gavorrano ci sta regalando delle bellissime soddisfazioni.